non ci crederete ma oggi anche il compleanno di Eleonora fatele gli auguri grande le tanti auguri a te per oggi no però oggi solo mio oggi solo mio il momento del regalo ma quanto è bello scartare i regali uuuuh ma bello il pecorone o pecora come volete per gli scatti più sexy per gli scatti più sexy grazie mille ne vedrete subito uno eccolo sta comprando la porchetta per il coccodrillone ma sta mascherina Filipe questa mascherina è al top del top al top del top grazie grazie eccoli eccolo che bello grazie 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 ma c'ha paura ma che cazzo grazie grazie ma quante cose buone vero grazie ma madonna che odore che bontà ma che bontà torta di Pasqua al top porchettone mamma mia il servizio quello buon attenzione ragazzi è arrivata la felpa anche per nonno Faustino lui è 0 1 attenzione la sta mettendo vi ricordo che ogni felpa che acquistate è un numero diverso vero no? e beh tranquillo io sono un coccodrillo vai e stai tranquillo che io sono un coccodrillo bravo bravo hai capito? bravo bravo fai meglio vai stai tranquillo che io sono un coccodrillo mamma mia un coccodrillo meglio meglio no così sembrerebbe che non si vede bene l'antatilo dovresti girare meglio tu devi fare ehi stai tranquillo fai così io sono un coccodrillo vai e stai tranquillo hai capito che io sono un coccodrillo però qua mentre spostavi la spalla si è visto un affare che non si doveva vedere tu devi fare così il movimento a stambecco reale prova lo stambecco lo stambecco prova lo stambecco ok ehi stai tranquillo e stai tranquillo che io sono un coccodrillo hai capito? ma non va bene oh allora sciacca di coglioni fa meglio lo stambecco fa meglio lo stambecco ma qua fa il cazzo fa meglio no sei troppo te sciacque di coglioni fa lo stambecco stronzo stronzo fa lo stambecco ma fa lo stambecco ma quel becco quel becco che cosa si mangia? cappelletti cappelletti ora quanto sei bello oh tutto coccodrillizzato sottopallato sente che sottopalla bello che c'è eh smetta la mannaggia ma non sei contento il mio compleanno? che cosa hai regalato? la figa la figa ma si e tu l'hai presa? l'hai vista e va fora e tu l'hai chiamata? e beh perché fuori sta pieno raga ve lo dico sempre adesso ci sarà una bella figa impacchettata vero? si guardate patè fatto dalla mamma ancora è caldo una delizia mamma mia quanto è buono ciao ciao non puoi parlare di questa questa è la torta di pasqua mmm guarda sentite colore sentite sentite nonna torta di pasqua al top eh chi è? chi è? chi è? chi è? Andrea chi è? chi è? poco tazzo poco poco tanto poco 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 Ne voglio, ne voglio, ne voglio, ne voglio. 30 contro i ogni dpcm, telecamere anche sporche, incredibile, sta nevicando, incredibile, ha nevicato, sta nevicando, assurdo. Canazzei, Campio, sta nevicando, incredibile, sta nevicando ancora, sei giovine, schifo, tutto aperto, tutto aperto, che voglio. Oh 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 a Oooo Oh Ooo o 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 arciuga c'è carico no vabbè sta pieno andremo sta pieno ora che c'è spuglioni no vabbè sta pieno